ciao a tutti e bentornati sul nostro canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e adesso che ci siamo riscoltati facciamo un po' di allenamento per le gambe grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti adesso alleniamo le braccia grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.